Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Game Play It, oggi siamo nuovamente su Scrap Mechanic perché voglio darvi le mie valutazioni dopo circa 8 ore di gioco. Quello che voglio dire prima di cominciare è che dato che Scrap Mechanic fa parte di una serie di giochi dove si cimentano i grandi youtuber, un pochino me lo aspettavo, infatti sono arrivati anche delle critiche tra chi commentava senza aver visto il video dicendo no devi far così per poi cancellare il commento perché quella cosa la sapevo, l'avevo già fatta, fino a chi ha detto sì sì ci metti impegno ma fai cagare. Allora se si viene qui per fare polemica andate da un'altra parte, mi rivolgo a quelli che ovviamente entrano qui pensando di trovarsi sul video di uno youtuber a quello che fa sganasciare delle risate, insomma no, io mi sto rivolgendo alle persone che non conoscono questo titolo che lo vogliono esplorare insieme a me, questa è la verità. Quindi iniziamo perché se avete visto l'altro video ho esplorato per la prima volta questo gioco, è tosto, all'inizio l'avevo forse mal valutato. Ora quello che faremo in questo episodio è andare a provare a diciamo produrre dell'acqua, dell'acqua che poi resterà diciamo per sempre nostra. Ho già prodotto quello che mi serve perché ovviamente o dalla wiki o da altre persone diciamo ho preso spunto per questo inizio, vi farò vedere anche le cose che ho creato. Tra l'altro abbiamo anche, ecco qua c'è sempre questo baghettino che fortunatamente poi sistemiamo così. Allora, in sintesi cosa ho fatto? Questo qua è il mio mezzo, devo fare veloce perché poi arriva la mezzanotte come i gremlin poi. Ho fatto questo interruttore che praticamente adesso non funziona e devo ancora capire perché, probabilmente si è danneggiato nello scontro. Sì, infatti probabilmente sì. Cosa succede? Praticamente premendo questo il pistone si allunga e va ad allungare in pratica questo poi attivandosi. Vedete che vado ad accendere manualmente la trivella e la trivella poi gira. Penso sia scollegato, penso sia danneggiato. Comunque in pratica qua scava la roccia, passando vicino vengono raccolti le parti di roccia, vengono raffinate in blocchi la costruzione. Intanto ogni tanto di giorno passa qualcuno qui che cerca di danneggiarmi il campo. Quello che ho constatato è che sì, si fa molta fatica a mangiare, cioè a tenere alta la bassa, la fame e la sete. Però una volta che vi producete qualcosa, vi portate dietro qualcosa, che poi in teoria dovrebbe anche andare a male, per quello esiste il frigorifero. Comunque una volta che vi portate in giro un po' di carote riuscite ad avere una buona autonomia. Sicuramente poi, dato che qualcuno poi mi ha detto devi fare i bot, sì, devo avere i materiali però, per fare il cookbot. Questo, che poi probabilmente a breve lo posso anche fare. E in sintesi, prendendo più ortaggi, mi crea un mega panino o una pizza con cui io poi posso mangiare e saziarmi, diciamo, per un bel momento. Ora, sto provando ad andare qua dietro, è molto importante anche scavare queste pannocchie giganti, in modo che se incontriamo una mucca, se poi riusciremo anche a metterne nel recinto una, meglio ancora. Però in pratica, gli mettiamo 3-4 pezzi davanti e ci fa uscire una bottiglia di latte e con quella placchiamo la nostra sete. Sto andando in questa direzione, l'acqua c'era anche dall'altra parte, ma in realtà andare da questa perché è un po' più campo aperto, riesco un po' più a vedere chi c'è in mezzo. E finalmente riesco a trovare anche un forzierino, che fortunatamente, prima storcevo il naso all'idea, ma il fatto che ripoppino dopo un po' è comodissimo. Il fatto che non ci sia una mappa, io non lo trovo un difetto, perché è figo esplorare finalmente in un gioco. Sono morto una volta là e ho lasciato un oggetto dentro il mio inventario in modo da sapere sempre dove è la base. Ora proviamo a vedere come funziona la costruzione della pompa dell'acqua. Ok, vediamo ora come piazzare la nostra fonte di acqua. Perenne, insomma. Allora, questo qua, che è il nostro, la nostra pompa, la posizioniamo qua. Sopra andiamo a posizionargli un, dove che ho messo? Questo. E poi mettiamo anche questo, qui. Credo di non avere il tasto giusto per farlo, comunque vabbè. Posizioniamo questo, mettiamo poi il nostro, devo capire qual è quello giù giusto, devo capire adesso qual è. E poi ci serve un tasto per poterla mettere in funzione, che abbiazziamo qua. Poi andiamo a connettere il tasto con questo, dovrebbe andare adesso. Allora, eh sì, ho fatto una gran cavolata perché dovete, ah no, 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 ok, no, dovete in pratica fare questa cosa qui. In pratica, posizioniamo questo, posizioniamo questo, dopodiché andiamo a invertire la direzione di questo a fare qua. Praticamente la freccia qui la dovete invertire. Ok, così, premendo la E e vedete che adesso il tutto funziona. Ora premendo, vedete che purtroppo dovremmo fare un interruttore che lo terrà sempre attivo. Quindi in pratica questo è un pulsante sbagliato, ma è quello che avevo al momento. Quindi in pratica cosa abbiamo fatto? Qua, pian piano, vedete, andiamo a produrre un sacco di acqua. Un sacco di acqua che ci risolverà parecchi problemi. Come potete notare ci sono degli attacchi, vedete così, e li trovate anche su tanti altri tool. In pratica che cosa serve questo? Serve per permettere di collegare più casse insieme o magari un tavolo da crafting collegato direttamente con una cassa e questo ci consentirà di tenere tutti gli oggetti, collezionarne tutti e mettere tutti gli oggetti di crafting invece che tenerli nell'inventario, in pratica molto in sintesi. Ora recuperiamo degli oggetti perché sta arrivando la mezzanotte, a breve arriverà, tra l'altro non vedo più dov'è casa, ma dovrebbe essere di qua. A breve arriverà e il mio prossimo intento è quello di creare, anzi qua è molto sbagliato perché c'è la fabbrichetta e ci sono anche un sacco di robotozzi. Un trucco che posso darvi è quello di, se avete dei secchi d'acqua, di riempire d'acqua il secchio e buttarlo da sui robot, soprattutto quelli con la forca, quelli più grossi, perché quelli piccolini non gli fa una piega. Che cosa si può fare con l'acqua? Allora, l'acqua non è un qualcosa che si beve, ma è un elemento di crafting. Tuttavia potete andare qua nel bot e andare a craftare il secchio dell'acqua e andare a riempirlo. In pratica, craftando con questo materiale metallico, craftate un altro secchio e ne riempite il più possibile. Potete poi, invece, prendere uno spruzzatore d'acqua, che è, scusate ve lo faccio vedere subito, che sarebbe questo, un cannone d'acqua, che tra l'altro mi sa che possiamo anche fare, e col cannone d'acqua potete andare a irrigare i campi. Quindi, adesso, vediamo se ho qualcosa a cui posso fare quella cosa lì. Allora, questi mi servono. Allora, iniziamo a mettervi un po' di cose. Tipo questo. Mi serve. Vediamo un attimo, perché... Poi, ovviamente, se avete piacere e volete vedere altri episodi, in cui magari vado a scoprire altre cose, ben volentieri. Blocchi, questi. Devo fare questi prima. Vi spiego un'altra cosa. Per fare le cose interessanti, come la trivella o la sega circolare, vi verranno richiesti dei materiali un po' particolari, come ad esempio questo. Questo ci chiede questo materiale qui, per poter essere craftato. Questo qua è importantissimo, ed è un materiale che trovate, diciamo, nella zona iniziale, dove c'è il... dove ci sono gli alberi bruciati. Praticai lì che poi andate a... Mettete che qua, in questo caso, per craftare questo materiale qui ci serve acqua, e in questo caso non avremo mai più problemi di acqua. Dovremmo però fare uno di questi, un interruttore che rimane fisso, e quindi che non dobbiamo star lì a tenere premuto. Niente, poi, allora, dicevo, il cannone d'acqua, questo qua, ci chiede della cera d'api. Allora, adesso ho sete. Tra l'altro io, quindi, non posso bere l'acqua da qua. Devo trovare un modo per poterla bere direttamente. Comunque, intanto, prendiamo questo. Bevo il latte, guardate quanto ci cura a livello di sete. E a breve arriverà l'ennesimo attacco. Tanto qua non stanno crescendo. E diciamo che ho trovato anche un progettino di irrigatore automatico. Devo realizzarlo, perché il grande problema del gioco, cioè la grande difficoltà, non problema, è il fatto che... Amma mia quanti! Fortunatamente questi non fanno molto danno e muoiono subito. Però dovrebbe esserci un altro di là. Infatti, vedete che sta già scavando all'interno della recensione. Poi, quando mi vedo, non smettono. E quindi bisogna ricominciare. Quello che posso darvi un paio di trucchetti è, quando trovate edifici, tipo le baracche, quelle cose lì, non ci farete calcolo subito, ma distruggetele. Le distruggete e col tasto destro recuperate i materiali, come sto facendo io adesso, e avete legno, ne avete tantissimo per cominciare a costruire. Soprattutto oggetti anche più avanzati, di più condizionatori, così lo trovate in alcune case distrutte, lo recuperate. È una cosa che si può craftare, di cui ignoro ancora l'utilità. Però lo potete fare. Adesso qua siamo sopravvissuti, quindi domani ci sarà... Qua è il registratore di cassa, non me ne faccio. Niente. Domani ci sarà un altro attacco, dovremo prepararci. E devo capire perché questo affare qua non funziona. Quindi io adesso dovrei depositare un po' di roba, ma non so dove, perché non ho... Allora, le casse che vi dicevo, vedete questo che ha il collegamento, quella la potete fare. Allora, la colla, devo fare la colla per fare la cassa più piccola. La colla, per farla, ci vengono richieste delle conchiglie, quelle le andate a prendere in info, dove al mare... Quindi piazziamo un'altra cassa e quindi abbiamo altro spazio dove mettere via la roba. Dovrei andare a bagnare. Qua abbiamo una tazza. Tazza che non so che cacchio mi serve, comunque vabbè. Allora, facciamo una cassa, così almeno risolviamo il problema dello spazio. E mi serve però questo materiale qui, che è questo. Craft 2 2. Così andiamo. È veramente drogante questo gioco, perché non riuscite a smettere. Poi ovviamente... Si presta a un pubblico spesso anche di fascia d'età bassa, quindi io gli insulti li metto in conto. Però, ripeto, io ho uno stile di video che è un qualcosa di simile e al amico che viene a casa nostra per vedere il gioco nuovo, cosa che io ho fatto più volte. Allora, no, dobbiamo ancora fare... Non possiamo... Non ce la facciamo. Non ce la facciamo a fare la seconda cassa perché mi servono dei materiali. Mi servono dei pezzi di metallo che si trovano dai robot. Quindi, in questo caso, io potrei andare a prendermi quello là. Boh, maia mondo, quanti sono? Mia, mia. Sono tantissimi e morirò male. Ma magari riesco anche a deviarli da un'altra parte. Mamma mia, quanti sono? Vabbè. Avessi l'acqua, gliela buttare addosso. Però io ho un po' separati, quindi... Questi qua muoiono con quattro colpi. Ok, uno è andato. Eh sì, mi stanno facendo il paiolo. Ok, due è andati. Ok. Ok, mamma mia. Ho fatto, ho fatto una cosa pazzesca. Devo dire. Però sono riuscito a recuperare i materiali che mi servono perché raffinando questo otteniamo quei metalli che vediamo sul tasto veloce 2, numero 2. E... E con quello poi ci finiamo la cassa. Adesso è tutta discesa. I campi non stanno crescendo perché manca l'acqua. Quindi dovrò preparare un sistema di irrigazione. Da quello che ho visto, prendendo spunto ovviamente da altri youtuber o dalla wiki, in sintesi si può fare un sistema che irriga in automatico muovendosi su un... un rullo, diciamo, usando dei sensori. Devo dire, per quanto spiegata così sembra... sembra una cosa difficile. In realtà non lo è. Ho la cassa che riusciamo già a fare da... No, me ne servono ancora 10, quindi ne faccio 10 adesso. Che sto centellinando sono questi materiali qua bruciati. Ovviamente pochi. io sento costantemente come vuoi di robot ma in realtà no. Allora, no, devo capire adesso perché non funziona se sto a fare qua. Quindi lo stacco. Eh, l'inventario è pieno. Mannaggia. Butto qualcosa che non mi interessa. Glowstick non mi serve. Butto il fiorellino. Ok. Ok. Allora, adesso riattacchiamo Allora, questo. No, l'agglowstick che cacchio è? Non so dove l'ho preso io quella pare comunque vabbè. Allora, ho recuperato il pistone che non trovo più adesso. Oddio, era rotto forse? Oddio. Ok, voi lo state vedendo. Niente, dovrò rifarlo allora. Immagino perché si è danneggiato. Sì, però non può neanche ribaltarsi così ogni volta. Vabbè, niente, dovrò rimettere tutto, dovrò ricraftare tutto per forza. Allora, vediamo il latte. Ah, no, ma che sono, sono un pirla. Ok, eccoli qua, perché ero sulla cosa sbagliata. Perché qua ho attivato una divisione verso un pirla. Allora, questo è il pi... No, questa è la luce. Dov'è che è il pistone? Scusate, ma io non ho ancora dimestichezza con le varie parti. Però il pistone non c'è. Il pistone non c'è. Niente, lo metteremo senza. Se il pistone non c'è, lo mettiamo. Allora, mettiamo un bearing, perché ovviamente la prima cosa che cercherete di fare è di mettere questo pensando che giri per conto suo, ma in realtà no. Eh, no, il pistone proprio non c'è più, quindi probabilmente era rotto, è proprio quello che fumava. E vabbè, intanto piazziamo questo che però è asimmetrico, a quel punto piazziamo questo. Lo connettiamo non al motore principale ovviamente, ma al motore secondario che è questo, che funziona a comando, quindi dobbiamo per forza andare qui, accenderlo ed è questa gira. Perché al momento dovremmo, per poterlo regolare con il motore principale, dovremmo andare ad aggiornare il motore principale e consentirgli di controllare più dispositivi. Vabbè, chi se ne frega intanto. Recuperiamo quello che abbiamo, facciamo la cassa, un minuto, un minuto per fare la cassa. Dovrei fare anche il pulsante, giusto, questo, che posso fare subito con i circuiti, metto in conto anche quello, così poi andiamo a prendere l'altro. Volevo dare il letto, vabbè, quello ci servirà per salvare la partita, dovrei avere i materiali anche per fare quello, mi piacerebbe fare anche le sospensioni per evitare che sia così rigida l'auto da guidare e fare anche la sega qua a circolare per abbattere gli alberi direttamente. Comunque, l'idea sarebbe quella di andare a prendere questo, che si trova sulle rocce alte, che è la cera, diciamo, d'api, o il miele, insomma, non so che cavolo sia, per poter andare a fare quella cosa lì. Abbiamo timer, abbiamo logic gate, i controlli, abbiamo veramente di tutto. Devo vedere un attimino come fare i sensori, sì, con i pistoni praticamente, spingere, faremo l'irrigazione automatica. Comunque, anyway, adesso, andiamo a prendere altra acqua là, non ci andiamo in macchina perché al momento vorrei farmi una macchina comoda e non così grossa. Metto qua un'altra cassa storta, ma chi se ne frega, butto dentro tutto quello che ho di super a flow in modo che dovrei farmi la cassa quella grossa che collego al produttore, al costruttore, ma vabbè. No, le carote mi servono perché devo mangiare e dovrei anche bere. Intanto butto dentro il beer ring e tutto il resto. Poi il lattino ce lo mettiamo qua, così mangiamo e beviamo. Adesso mangiamo la carotina, ne mangiamo due e poi beviamo il lattino. Ok, siamo messi molto bene. Prendo, metto i secchi sotto in modo che sono tutti al... Devo capire, poi se qualcuno di voi che sta guardando il video magari lo sa, me lo può dire, come si fa a convertire quest'acqua in acqua da bere, se è possibile perlomeno. Allora, adesso andiamo giù. Dovrei riuscire a trovarlo, spero, perché andando dietro l'officina, quindi dalla parte opposta dall'insegna di chiave inglese, trovate in una zona desertica e subito dopo trovate l'acqua. È sempre utile anche fare sempre le stesse cose, perché andando qua può risponare qualche forziere o potete trovarvi sulla strada un nemico che potete abbattere. Andando avanti, esplorando, si troveranno dei robot più forti, per cui il martello non sarà più necessario, cioè non sarà più sufficiente, e quindi dovrete craftare un'arma e le armi si faranno. Intanto vedete qua, intanto vado a abbattere questo coso qui e gli metto questo. Poi andiamo a... Ok, quindi in teoria premendolo dovrebbe produrre acqua illimitatamente. Ok, allora a questo punto vedete che o equipaggiate e usate e riempite, o se siete già in acqua vedete che il sacchio diventa piccolo già di suo. Poi, sott'acqua, vediamo se c'è qualcosa da prendere qua al volo per fare un'altra colla magari. Ci servono tre conchiglie, possiamo andare a farle subito mentre aspettiamo che produca un po' d'acqua. Quindi una. Due. Adesso troviamo anche del petrolio ma... Che poi sono tutte risorse che queste ripoppano nel giro di, credo, un paio di giorni. Eccolo là, il petrolio. Adesso andiamo a prenderlo tenendo sempre d'occhio il... il carburante... il carburante... l'ossigeno. Comunque, per chi ha scritto nello scorso video che potrebbe farmi una lista di errori di 25 metri gli direi che se me li vuole dire può cominciare. Insomma. Io ripeto ancora e poi non lo dirò più sto facendo un video per presentarvi il gioco per chi ha piacere a seguirlo da me. Insomma. E scoprirlo con me. Come sto facendo anche su X4 Foundation. Allora. Allora, abbiamo recuperato acqua quindi a questo punto beh qua è già pieno abbiamo già preso tipo 100 d'acqua quasi. È una produzione veramente pazzesca. potremmo anche pensare con dei tubi di portare il tutto su ma è veramente durissima da portare su. Intanto, infatti, quello non lo vedevo prima ma ero tagliato di là prima. Lì c'è un altro edificio da esplorare in cui saranno sicuramente ripoppati e esponati tutti i forzieri ma non ci vado adesso. Adesso l'obiettivo è quello di bagnare i campi perché li ho fertilizzati ma devo assolutamente bagnare li perché poi una volta che saranno cresciuti e avrò raccolto tutto voglio spostarli perché giustamente io devo proteggere i quattro lati mentre invece se in teoria lo attaccassi qua se è possibile costruire qua ovviamente perché non so se è possibile su un angolino qui magari farlo qua avrei una parete coperta o anche qua sotto mettere un muro da una parte e un muro dall'altra e farlo abbastanza protetto quindi l'idea sarebbe quella comunque intanto ricordatevi sempre se buttate questo secchio addosso ai robot quelli grossi con la falce li bloccate per qualche secondo e li menate intanto bagniamo un po' a random anche se sembra che bagni solo un campo ma probabilmente ne bagnano anche di più cerchiamo di bagnare nel più possibile anche se a me sembra che ne bagnino solo comunque vabbè un po' ne sono bagnati vedete che poi il più sopra segna che sono fertilizzati perché ho usato il fertilizzante e niente ho perso ho perso il pistone ho perso il pistone il pistone tra l'altro l'avevo recuperato da o l'ho messo via ma non mi pare di averlo messo via no 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 il pistone è un casino da fare l'avevo trovato in una cassa vi ho poggiato le gomme quelle vecchie le prime che trovate pistone pistone tosto da fare che è questo ci chiede della carburante beh oddio neanche tanto dovrei fare questo blocco qui quindi produrne di questi ma non ne ho più perché probabilmente ecco questa è un'altra menata che io butto via roba che mi serve per il crafting e quindi il crafting mi dice che non lo posso fare il pistoncino lo possiamo fare eh sì allora andiamo prendiamo dalla cassa queste cose qui importantissime per tutto quello che è l'upgrade e il crafting meccanico lo craftiamo 40 secondi e messo il pistone vi faccio vedere anche come funziona allora in pratica demoliamo la trivella demoliamo questo e mettiamo poi in realtà dovrei sdellire tutto dovrei smontare tutto e fare solo per tipo io adesso questa la appoggio qui la metto qua da qualche parte la metto qui e e dovrei accorciarla col saldatore posso tagliarla in due risaldarla e in pratica diventa molto più maneggevole e niente adesso poi concludiamo vi faccio vedere il pistone allora il pistone lo posizioniamo qui allora in pratica lo mettiamo qui la regola principale è che non possiamo attaccare nulla direttamente al pistone ma dobbiamo mettere sempre un blocco quindi mettiamo un blocco di legno mettiamo un bearing cuscinetto quindi che lo che determina la rotazione e a quel punto piazziamo la trivella la trivella poi con questo settiamo che la pressione del tasto va ad allungare il pistone via ok il pistone possiamo andare a aggiornarlo in questo caso aumento velocità e range e al massimo possiamo fare questa cosa qui quindi a questo punto se io vado qua e attivo il motore il pistone inizierà a girare però dato che l'ho ripiazzato devo andare a riconnetterlo ok possiamo anche dirgli al contrario insomma possiamo decidergli la rotazione ma non cambia niente ora lo ritiriamo indietro e possiamo fare proprio uno scavo a distanza e questo è una cosa molto raccaica perché poi si potrà andare a ottimizzare di più ci fa anche male tra l'altro infatti si mi sono fatto male bene ragazzi allora io sto giocando in modo molto raccaico molto primitivo ma perché mi piace poi andare a migliorare e esplorare quindi è inutile anche che mi si venga a dire non sei esperto non sai fare niente perché quello lo stai facendo sbagliato no lo sto scoprendo e come si dice empiricamente quindi insomma mi sto divertendo mi sto divertendo il fatto che comunque si esplora si deve tornare qua alla mezzanotte vorrei creare un sistema di recensione con le seghe circolari in modo da abbattere tutti ora facciamo il craft bot no non facciamo il craft bot perché mi chiede 50 di questi minerali qui che non so onestamente cosa siano sono quelli mannaggia non mi ricordo più da dove si tirano fuori quelli eh sì 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 ho capito sono quelli che scavi dalle rocce non si craftano lì bisogna andare con questa travella abbattere un po' di un po' di rocce e farne circa 50 sono le rocce che si vedono poi anche là dietro quindi insomma provvederò prossimamente perché fare il farm il bot cuoco non sarebbe male qua stanno crescendo si diciamo che stanno già aumentando tra 6 ore cioè tra 6 minuti e 45 secondi avrò l'ennesimo attacco dei bot dei robot alla mezzanotte per intanto vi ringrazio fatemi sapere che cosa ne pensate noi ci sentiamo al prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao ciao